Attenzione perché Baggioli allunga, il corridore si volta, forse è il segnale che proverà un allungo, è uno scatto che si ripete puntuale, sempre alto sui piedali, attenzione perché anche Covi si porta sulla ruota del compagno di squadra, allora viene voglia sicuramente di dire che è un piano tattico perfetto, quello che il team Colpa che sta attuando con l'allungo di Baggioli, con la replica di Covi e se ne vanno proprio al bivio di 4 Madoni, ultimi 200 metri con i due atleti, eccoli qua in questo momento, sulla destra è Andrea Baggioli, sulla sinistra Alessandro Covi, non c'è volata e arrivo in parata e la ruota di Andrea Baggioli taglia per primo il traguardo e dunque è lui il vincitore.